Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e in questo video vi mostrerò il nuovo album di Laming Hearts di Dragon Ball Super, Ultra Power. Questa appunto è la nuova espansione, è già una delusione perché io pensavo che ci fosse Dragon Ball GT stavolta, hanno fatto Dragon Ball Z. Poi Dragon Ball Super, stavolta speravo Dragon Ball GT e invece niente, un altro di Dragon Ball Super, non si sa perché. E da quello che ho potuto vedere le carte non sono neanche troppo belle, ovviamente non l'ho vista da me, l'ho vista da altri, però ho voluto provare comunque a prenderlo, vedrò, non so, penso di non finirla neanche la collezione. In questo video appunto vi mostrerò semplicemente l'album, vedete comunque, è carino, ci può stare, in questo, cioè, vi mostrerò l'album, aprirò il pacchetto e metterò le carte nell'album. Se non avete visto le recensioni degli altri album o gli spacchettamenti delle carte degli altri album, trovate tutto nelle playlist, nella playlist degli spacchettamenti e delle recensioni. Quindi direi che possiamo andare a vedere il nostro album, apriamolo intanto e tiriamolo fuori dalla confezione. Ecco qua, e abbiamo anche il nostro pacchetto, bene. Il pacchetto lo mettiamo da un'altra parte e poi lo apriremo dopo, intanto guardiamo l'album. Ragazzi, sembra molto fine, veramente molto molto fine. Vediamo un po', allora, qua c'è la checklist con, non si vede, cioè, è proprio, ragazzi, ma è opaco? Cioè, non è plastica normale, è proprio, è uno strato spesso di plastica ed è pure opaco, io boh. Comunque sono 162 carte, 153 normali, fra, insomma, speciali. Ah no, ecco, vedete? Olo Fusion, ok. Fino dalla 127 alla 153 e poi dalla 154 alla 162. Sono Metal Power, quindi Limited Metal Edition, che da quel che ho capito si trovano al posto, cioè nei pacchetti da 5€ al posto delle maxi. Poi vedete qua tutta la checklist, le carte normali, quindi ci saranno prima tutte quelle normali, poi le speciali e poi le Metal Power, vabbè. Comunque qua tutte le pagine. Queste Aya, raga, non sono numerate, non so se è un errore del mio album, ma non sono numerate. Guardate, ragazzi, bello questo Vegeta, ma non solo perché, vabbè, questo è un fascicolino a caso. Qua ci sono tutte le carte, e di qua, ragazzi, Goku, guardate, bello, questo Leimat barra poster, fantastico. Nulla, poi le altre pagine dell'album. E qua in fondo si vede poco, ragazzi, non perché non mette a fuoco, ma perché proprio... C'è uno strato spesso di plastica, opaco. Queste, vedete, sono le Metal Power, come si chiamano? Limited Metal Edition, vabbè, insomma. Sono molto belle, devo dire, molto molto belle, solo che si trovano nei pacchetti da 5€ insieme, appunto. Come le maxi, solo al posto delle maxi trovate queste. Quindi ci saranno 9 carte, 6 comuni, 3 rare e una Metal. Comunque, boh, in fondo, vedete, questo qua, appunto, cioè, l'album, insomma, così. Poi il bordo di questo qua è rosso, e, boh, raga, cioè, è un po' moscio, un po' messo male, non so come me l'hanno venduto, vabbè. Qua è pure graffiato, raga, ma si vende la roba così? Ora non si vede bene, però, ecco, vedete, è un po' graffiato. Comunque, cioè, questo non dipende dall'album, dipende da chi me l'ha venduto, ma... Piccoli dettagli? No, piccoli no, non so neanche tanto piccoli. Comunque andiamo ora col pacchetto. Possiamo vedere che l'artwork del pacchetto è identico all'artwork dell'album, insomma, alla copertina, diciamo. Comunque andiamo a vederlo, mi sembra questo abbastanza moscio, cioè, fine. Vediamo, cerchiamo di conservarlo. Ok. Vediamo un po' cosa troviamo. Uh, si vede che c'è la speciale. Abbiamo un Goku, Super Saiyan, questa caricatura, diciamo, piccolo, bambino, diciamo. Poi abbiamo Vegeta Super Saiyan Blu Evoluto, non male. Un'altra caricatura di Goku. Vegeta, Super Saiyan. E ragazzi, la speciale di Vegeta. Con Laura intorno. Ci sta, dai. Cioè, guardate, è comunque bellina. Cioè, è un po' diverso lo stile di queste nuove carte. Sì, dai, ci sta. Ora ve le faccio un po' vedere, perché appunto sono diverse dalle carte vecchie. Vedete adesso il nome è scritto di qua, in verticale. Qua giù, attacco e difesa. E bonus, vedete, ok. Quindi sembra che queste qua, col bordo verde, siano le caricature, insomma, i personaggi da bambini. E, insomma, cioè, fatti come se fossero bambini. Quindi non hanno attacco e difesa, sono semplici, cioè, carte così solo per i bonus. E hanno il bordo verde. Queste qua blu sono proprio le carte dei personaggi normali. Con attacco e difesa, cioè, ragazzi, 630, 655, voglia. Dietro hanno gli effetti? No? Sì? Una su cinque, sì? Vabbè, e le speciali sono fatte così, vedete? Non brillano più con tutti i brillantini, però, insomma, brillano così. Sono tipo metalliche. Comunque, dai, abbastanza carine come carte. Siete, sì, vedete, cioè, sono diverse, proprio diverse. Non erano mai state fatte carte così. Comunque, sì, andiamo a metterle nell'album. Sarà un po' difficile perché non sono numerate le pagine, quindi dovrò, cioè, sarà un lavorone, dovrò contarle, mamma mia. Allora, facendo un po' un calcolo, in teoria la 92 sta qua. Questo copia la 92, quindi sta qua. Poi questo vegete è la numero 13, quindi qua 9, 10, 11, 12, 13, quindi questa la mettiamo qua. Poi abbiamo la 91 e se la 92 sta qua, la 91 starà qui accanto. Anche, anche, non saperlo. Uguale questa che è la 12, se la 13 sta qua, la 12 starà qua. Poi scusate, subito il Super Saiyan e poi direttamente il Super Saiyan Blue è voluto. Cioè, Super Saiyan Blue normale non c'è. E questa speciale, olo, come si chiamano, la 136, guardate bella così, ragazzi. Non metto a fuoco, perché? Vabbè, comunque la 136 sta qua su, guardate bella. Poi ha tanta roba, non mi sembrava fossero così belle le speciali. E niente, raga, anche queste carte le abbiamo messe. Abbiamo aperto il nostro primo pacchetto. Voglio darvi una buona notizia, ovvero che abbiamo altri 24 pacchetti da aprire. Quindi li vedrete, ovviamente, nei prossimi video. Comunque, raga, questo era l'album delle nuove Laming Arts di Dragon Ball Super Ultra Power. Fatemi sapere cosa ne pensate, sembra abbastanza bello come album, abbastanza, non diciamo nulla, ancora meglio non dire niente. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Passate dal profilo Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutto, attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi.